Allora, benvenuti, siete al CIT, al Centro Internazionale per il Trasferimento dell'Innovazione Tecnologica sulle energie rinnovabili. Il centro si occupa della promozione delle attività di ricerca, del supporto e dell'animazione su tutte le attività che sul territorio geotermico si realizzano nell'ambito delle energie rinnovabili, come dice il titolo, e dell'efficienza energetica. Da questo punto di vista collaboriamo con i rappresentanti del territorio, con interlocutori a livello toscano, nazionale, lavoriamo all'interno di progetti europei, nazionali o regionali. Qui vengono svolte tutta una serie di attività che hanno come obiettivo quello di rendere più razionale l'utilizzo dell'energia in Toscana e in Italia.